A seguito delle analisi effettuate della revoca dell'ordinanza sindacale di divieto per usi alimentari, l'acqua torna ad essere potabile ma divampano le polemiche. In mattinata il consigliere comunale di opposizione Pippo Midili ha diffuso una nota attraverso la quale fa presente che ancora oggi dei rubinetti di parecchie abitazioni del centro di Milazzo continua a fuoriuscire acqua di colore marrone. Secondo Midili il fenomeno non è riconducibile a residui dentro le cisterne poiché si è verificato in abitazioni prive di autoclave e che attingono direttamente dalla rete comunale. L'ex assessore al bilancio della giunta Pino invoca tempestivi chiarimenti su tanti interrogativi che a suo dire sarebbero rimasti senza risposta. Uno su tutti perché i cittadini dovrebbero sobbarcarsi le spese per le puliture di autoclave e cisterne o ricorrere alla sostituzione di caldai e scaldabagni danneggiati dalla condotta comunale. Intanto il COC ha concluso le sue attività al comune di Milazzo dopo l'ultima riunione operativa tenutasi ieri in sala giunta. Oggi il sindaco Giovanni Formica ha fatto il punto in prefettura, domani invece prevista una seduta straordinaria ed aperta del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno l'unico punto riguardante alluvione bastione e dissesto idrogeologico. Invitati la protezione civile e i deputati regionali e nazionali.